cari amiche cari amici di barba sofia questa settimana per il libro della domenica vi consiglio il libro che ho dato da leggere ai miei ragazzi e le mie ragazze di quarta del liceo scientifico giordano bruno con la quarta ho fatto un laboratorio di filosofia politica a partire da marchiavelli per giungere ad ad hegel il prossimo anno ripartirò da hegel nella speranza di riuscire ad arrivare a bauman fuccault trattando la scuola di francoforte carl schmidt habermas e quest'estate ho dato a loro da leggere un uno degli ultimi libri di chomsky le dieci regole del potere noam chomsky le dieci regole del potere edito a ponte delle grazie costo 14 14 euro e il libro è del duemila e diciassette in questo testo il grande linguista nord americano anche uno dei massimi esponenti del progressismo radicale del pensiero libertario appunto statunitense in questo testo non ciò che riprende alcuni grandi temi di tutta la sua analisi politica presenti in opere quali capire del potere i padroni del mondo oppure su cui magari un giorno tornerò perché chomsky è un autore fertile fecondo un autore che ci può dare tante chiavi di lettura per comprendere la complessità della realtà ebbene in questo testo chomsky recupera alcune delle sue grandi tesi però lo fa in modo sistematico chiaro documentato con tanto di fonti e documenti in appendice ad ogni regola del potere le dieci regole del potere sottotitolo significativo requiem per il sogno americano chomsky sostiene appunto che il ventesimo secolo è il secolo dell'imperialismo americano più che mai e questo impresso americano ancora oggi continua nel tentativo degli statuti di perpetuare un dominio planetario a partire dalla forza militare del pentagono a partire dalla forza del del dollaro a partire dalle transazionali e multinazionali che con il governo americano dominano l'assetto della globalizzazione liberista il sogno americano dalla grande depressione al dominio globale una bellissima anche introduzione in cui in maniera molto 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 sintetica presenta il circolo ormai vizioso chomsky del potere americano e poi le dieci regole prima regola del potere ridurre la democrazia la prima regola del potere quella di ridurre la democrazia si va verso la democrazia degli opulenti il potere dei pochi e in questa in questa trattazione cita dei testi importanti cita madison jefferson aristotele sommers contro stewart nel corte col consiglio appunto reale del 72 inglese poi si passa da malcolm x a martin luther king c'è l'argomentazione della prima regola ridurre la democrazia e poi suffragata da una serie di proprio documenti cioè di estratti dio discorsi o di trattati per esempio di malcolm x c'è il discorso del 60 discorso del 60 di malcolm x il titolo è appunto la democrazia è una ipocrisia dunque il sogno americano requiem del sogno americano porta con sé una riduzione di fatto della democrazia la democrazia le neodemocrazie sono delle aristocrazie sono delle plutocrazie c'è il governo dei pochi degli opulenti secondo principio del potere plasmare l'ideologia plasmare l'ideologia è importante dunque costruire un'ideologia plasmarla indottrinare è importante lavorare di propaganda e stigmatizzare le voci critiche ridurre le voci fuori dal coro far prevalere sempre l'interesse nazionale che in realtà è l'interesse dei pochi ma si parla di interesse nazionale per in realtà nascondere l'interesse dei pochi si passa si fa passare l'interesse delle minoranze per l'interesse della nazione e la propaganda deve lavorare deve lavorare 24 su 24 dunque gli interessi delle grandi multinazionali delle case petrolifere gli interessi delle grandi lobby del grandi corporation devono essere percepite come gli interessi devono essere percepiti come gli interessi di una nazione dunque lavorare lavorare con la propaganda lavorare attraverso la propaganda e dunque plasmare più che mai le menti plasmare più che mai l'opinione pubblica chi sono quali sono i documenti Lewis Powell importante il memorandum il memorandum Lewis Powell poi 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 in questo caso Alan Schwarz un articolo del New York Times del 2012 disturbi dell'attenzione o meno pillole per andare meglio a scuola bellissimo questo passaggio come si plasmano già i ragazzi attraverso le medicine attraverso i medicinali a scuola terza regola ridisegnare l'economia ridisegnare l'economia i padroni dell'umanità così li chiama i grandi proprietari hanno cercato di trasformare l'economia in due modi ampliando il potere degli enti finanziari innanzitutto bank sull'investimento compagnie e questa è stata la prima cosa che hanno fatto va bene e al contempo al contempo ridurre anche qua gli spazi del controllo democratico e politico in ambito economico ecco come si come viene ridisegnata a finanza adesso ve lo schema nel 50 la manifattura negli states era al 5 al 28 per cento e o e la finanza era all'11 oggi la finanza 2010 al 21 e la manifattura all'11 si passa dall'economia reale all'economia finanziaria poi la decollante delocalizzazione l'insicurezza dei lavoratori precarizzare i lavori decostruire i contratti nazionali far vivere i lavoratori sempre a costo di precarietà in modo tale che siano ricattabili i documenti quali sono justin l'art basta con l'uscita del corto respiro adam smith con la ricchezza delle nazioni grace pen quando era appunto il capo della banca centrale della federal reserve quarto principio scaricare i costi i costi vanno scaricate delle crisi economiche sulla cittadinanza sui lavoratori sulla restrizione dei redditi e dunque bisogna invertire una vera propria tendenza degli anni sante settanta cioè portare direttamente invertire la tendenza cioè anziché soccorrere aiutare a domanda aggregata ad aiutare il reddito bisogna durante le crisi economiche scaricare i costi sui cittadini dunque renderli ancora più precari fragili e renderli ancora più vittime di queste crisi devono dunque sobbarcarsi i costi dunque la crisi la la scarichi sui cittadini i quali con le tasse con poi con un lavoro ancor meno retribuito con più ore di lavoro parete di salario o chiaramente con una minor paga per 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 orario allora debbono appunto sobbarcarsi i costi della ristituzione economica le fonti si parsa da henry ford per arrivare al standard and poor 5 principio 5 uno di quelli che è più amato in questo libro aggredire la solidarietà e chi mi segue sa questo mio cavolo di battaglia la solidarietà va aggredita la nostra costituzione ad esempio sancisce il principio di solidarietà come collante del paese della comunità invece bisogna aggredire questo principio a trasformare tutto ciò che è solidale in perdita di denaro tutto ciò che è solidarietà è perdita di tempo è lentezza è burocrazia la società non paga viva il cinismo viva lo squalismo viva il lupo che è lupo degli altri uomini e dunque è un costo a solidarietà sanità pubblica un costo istituzione pubblica un costo l'ambiente un costo in america bisogna aggredire il principio di solidarietà e alzare le bandiere della privatizzazione privati privatizzare privatizzare ridurre sempre più l'intervento del governo del ruolo del governo la soluzione invece un ritorno alla solidarietà attaccarsi della rietà cioè la colpa dei più poveri la colpa dei migranti la colpa degli statali la colpa è appunto dei marginali la colpa è dei poveri la colpa della scuola pubblica la sanità costa troppo ma cosa dicono questi ambientalisti la colpa degli altri di tutti coloro che portano avanti solidarietà hannah smith ancora tira dei sentimenti morali tra le fonti il social authority act e poi il serviceman act importanti questi documenti perché vogliono un po suffragare le tesi di non cioschi mamma mia sesto principio controllare controllare i controllori è importante importante sempre più durante la depressione fu emanata una norma che separa le banche commerciali cui deposito sono garantiti a livello federale dalle banche di investimento ed è una legge è importante ci dice questo punto cioschi che bisogna è importante controllare coloro che controllano cioè serve un controllo dei pochi sugli stessi controllori già bisogna controllare 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 i gruppi finanziari controllare i gruppi appunto ma non la politica è questo aspetto interessante tutta questa deregolamentazione ha fatto sì che società private di 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 rating siano diventati i veri controllori i veri controllori cioè quelli che controllano quelli che controllano tutto quello che controllano quelli contro l'economia quelli che danno gli input ai governi quelli che danno appunto le triple a danno i voti per poi stabilire le politiche economiche attive da parte dei dei governi c'è il controllo dunque da parte di alcune grandi agenzie di tutta di tutta di tutta l'economia e lo stato è solo più una baglia vengono esternalizzate tutte 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 le analisi gli analisti sono esternalizzati in modo tale che a decidere siano dei fondamenti più forti che decide sia il mercato che siano i padroni stessi del mercato cioè i controllori sono diventati controllati cioè lo stato stesso non controlla più l'economia ma è lo stato che è controllato lo stato è controllato da agenzie private agenzie esterne che rispondono al mercato i grandi capitalisti i grandi gruppi internazionali le fonti jacob hacker le fonti le fonti rob van tulder la logica della ristrutturazione ancora adam smith e poi john tyler lettera al colonnello militare principio 7 principio settimo l'ingegneria delle lezioni ruotare di fatto le lezioni cioè trasformare le lezioni in un atto sempre più sempre più vuoto sempre più quasi inutili le lezioni stesse sono sponsorizzate le corporation vengono finanziate le campagne elettorali in maniera totale dai grandi gruppi economici finanziari pertanto essi hanno poi un grande potere sugli stessi candidati se vivi e stati indecisi ad esempio votare per la in cui vale votare per trump è una questione ormai aritmetica perché 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 la personale opinione non servono pochissimi minuti ormai per cambiare opinione a partire da predicatori a partire pubblicità a partire da veramente una propaganda ed un controllo del flusso elettorale e i finanziatori controllano le campagne elettorali controllano le campagne tra lì in maniera totale puoi passare a votare da un candidato all'alto in alcuni stati quasi senza senza accorgere ma cosa vuol dire che ci sono stupidi no ma vuol dire che vuol dire che la prop la prepotenza la preponderanza di questa di queste corporation di queste elezioni sponsorizzate della corporation e fa sì che l'autonomia la forte la forza critica la preparazione l'educazione che possiede un cittadino naufraga di fronte a questo potere è veramente e e nulla e quasi e quasi nulla va bene li piccoli candidati pareti minori sono esclusi non hanno i soldi per potersi comprare passaggi televisivi per potersi comprare spazi pubblicitari sui siti sul sulle sulle grandi piattaforme dunque sei escluso e le fonti sono ferguson sono la corte suprema uo principio ottavo tenere a bada la plebaglia la plebaglia va tenuta a bada attraverso la cultura antisindacale cioè sfavorire le organizzazioni sindacali assolutamente a affossare lo stato sociale dunque la plebaglia viene appunto ridotta in una condizione di marginalità ma anche di sudditanza di di debolezza l'offensiva imprenditoriale totale per il tempo libero per il divertimento dunque per l'assistenza per il per il welfare che privatistico la coscienza di classe in america è sparita da tempo spinta anche da parte del mondo ma ciò che dice è addirittura stata scientemente appunto suotata la coscienza di classe ogni senso di appartenenza è stato eliminato c'è dunque una guerra costante tra poveri e le fonti e le fonti sono articoli new york times sono truman sono fraser sono factory tracks le ragazze di fabbrica un bell'articolo tratto dal dal sulle sulle cose del lavoro del massachusetts nono fabbricare il consenso un cavallo di battaglia di chomsky fabbricare il consenso fabbricare il consenso parte da jume parte da jume uno dei primi studi suonatore del governo fu quello del grande pensatore jume nella sua opera primi principi del governo un aspetti lui messo in luce fu che in tutti gli stati la forza sta sempre dalla parte dei governanti i quali ti inducono ad appoggiarli a pensare come loro l'ascesa appunto dell'industria delle pubbliche relazioni quelli che curano le campagne elettorali quelli che curano i social quelli che veicolano informazioni che ti bombardano che le manipolano controllo facebook controllo instagram controllo la pubblicità che ti arriva nella posta elettronica che ti arriva sui social sfabbricano dei consumatori di voti tu navigando ti accorgerai che il tuo candidato che il candidato x è bombardato è pensato come inadeguato cattivo stupido ti vengono ripetute l'infiltro delle menzogne che diventano verità diventi un consumatore della politica e puoi arrivare a compiere delle scelte irrazionali ad esempio ti ripetono che l'ambiente non è un problema non è un problema non è un problema non è un problema ti mettono in cattiva luce gli ambientalisti gli ecologisti greenpeace e tu a un certo punto non ti occuperai di quello che per te è prioritario dovrebbe essere come l'aria che respiri l'acqua che bevi la città che frequenti le scuole che ti mancano fabbrichi il consenso contro te stesso diventi consumatore che porta potere a chi potere ce l'ha e togli potere a te o meglio non investi per poter distribuire il potere in maniera popolare cioè in maniera autenticamente democratica il popolo fa gli interessi delle minoranze questo è il trucco portare le masse cittadini a fare gli interessi della classe dominante le fonti davidium principi morali edward bernice e poi ancora eric scholzer importanti no matthew kramer vince obama passaggio molto bello sulla campagna lettore di obama sui think tank sui pensatori sui laboratori che producono pensiero per poter suffragare un candidato un gruppo di potere e il decimo ritorniamo ancora il tema della plebaglia qua diventa marginalizzare il popolo la regola del potere trasformare il popolo in una massa indistinta la rabbia diventa indiscriminata il popolo diventa una massa irrazionale e il popolo diventa appunto prigioniero di pulsioni passioni e sono tutti in lotta per sopravvivere il popolo viene evocato da una parte all'altra il popolo contro l'elite il popolo però tutto delinquente il popolo razzista il popolo antirazzista il popolo una massa appunto indistinta una massa a cui vengono attribuiti affibbiati tutto il controllo di tutto in modo tale da marginalizzare il popolo il popolo in modo tale che non sia più possibile costruire legami di popolo legami solidari va bene il popolo viene marginalizzato viene trasformato in una massa appunto informe e che spaventa o che pure deve essere utilizzata e ben guidata ma alla fine non deve contare niente tipico dei populisti esempio questo o invece i conservatori lo considerano appunto sempre portatore di disordine di pulsioni di passioni appunto delle terie e le fonti quali sono le fonti sono john dewey si parte dal mitico dewey the later wars poi breadboard contro dell'ohaio articolo del new york times e poi ancora our zin il grande intellettuale our zin non si resta neutrale su un treno in corsa e perché nel treno in corsa bisogna bisogna scegliere le dieci regole del potere se volete strumenti per capire la realtà in un'ottica progressista libertaria per questo è chomsky se volete arrabbiarvi un po all'ago in montagna sotto l'ombrellone le dieci regole del potere di john di noan chomsky ponte delle grazie 14 euro lettura liberatoria lettura ossigena ossigeno lettura fertile o secondo me ragazzi ragazze signore e signori la rabbia e liberatore se questo fa un po arrabbiare vuol dire che siamo di fatto un po cresciuti ci siamo un po liberati ma